Con la pallaca l'ultimo si appassa ma soprattutto cambia traiettoria, si accendia e la parata poi vedremo meglio come l'ha presa a gas e ha ricordato un po' il movimento e la mossa dello scorpione di vita, quindi volta che la Siria insomma si stetta a credere che sia possibile che lo possa fare la cosa del centro, a Wembley in il terra-Bolombia quindi era una partita comunque di un certo spessore, la differenza tra l'intervento di Wembley che è quello di Agazzi di oggi e che in vita potrà tranquillamente prendere la palla tra le braccia e accingersi a rinvio come si diceva una volta, Agazzi invece quando ha capito che non poteva arrivare col guantone sulla palla guarda qui, ci ha messo volontariamente abbiamo visto con la rito di Piero il tacco, poi da dietro c'è stato bravissimo a cercare di mettere il tacco alla gamba, è riuscito a fare un gesto, un movimento e si è salvato la barriera l'ha messa male, qui si vede bene, non ce la può fare, tac, ma poi comunque si, ha sbagliato due cose prima di poi salvarsi con il tacco, ha sbagliato di mettere la barriera come la messa e poi troppo presto, cioè, devi capire com'è la calciata e che può cambiare la traccia